In Italia oltre 40.000 persone non sanno di essere celiache. La celiachia è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue scatenata dall'ingestione di glutine. Fino a domenica è in programma la settimana nazionale della celiachia, un'iniziativa dell'associazione italiana celiaca Ollus, che da oltre 35 anni si impegna a cambiare in meglio la vita delle persone celiache e dei loro familiari. Una tappa ha riguardato anche Morano Calabro. Quest'anno lo slogan è la celiachia è una patologia, non uno stile di vita, proprio perché ultimamente si sta affermando quasi come una moda la celiachia. Per qualsiasi cosa, qual è la soluzione? Mangiare senza glutine. Quindi stasera con i referenti dell'associazione italiana celiachia Calabria e la nutrizionista, la dottoressa Francesca Dingianna, parleremo proprio di questo, di un corretto stile alimentare senza glutine, di quali sono gli alimenti che i celiaci devono assumere, chi non ha bisogno di assumere alimenti senza glutine e se ci sono alimenti alternativi, che non debbano essere per forza quelli acquistabili nelle farmacie, quindi quelli preconfezionati, quelli pronti, che talvolta hanno anche un brutto sapore, diciamo, per noi celiaci. La settimana nazionale della celiachia è un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione rivolta al grande pubblico e ai media e in questi sette giorni l'associazione vorrebbe raggiungere il numero più elevato possibile di persone per richiamare la loro attenzione sui temi inerenti la celiachia attraverso contenuti semplici, fruibili da tutti ed efficaci. Questa edizione prevede un focus incentrato sulla diagnosi. Nel nostro paese si stima che a fronte dei circa 175.000 pazienti diagnosticati ad oggi ci siano 400.000 persone che non sanno ancora di essere celiache. Questo significa che solo il 25% dei celiaci è diagnosticato, gli altri mettono a rischio ogni giorno la loro salute. Il percorso che stiamo facendo come amministrazione comunale è quello di portare all'attenzione della cittadinanza degli argomenti di importanza fondamentale e sentivo prima che la celiachia non è una moda, è una patologia per tale va trattata e noi continuiamo con questo programma di informazione che va nella direzione di un sviluppo sociale e culturale di questa mia comunità. In occasione della settimana nazionale della celiachia la Federazione Italiana Cuochi ha realizzato con l'Associazione Italiana Celiachia degli specifici menu degustazione senza glutine che sono stati messi a disposizione dei ristoratori aderenti al progetto Alimentazione Fuori Casa Senza Glutine dell'AIC per promuovere questa importante iniziativa nazionale di sensibilizzazione. Come ad oggi i locali commerciali che si stanno attrezzando anche per essere provisti di prodotti giusti per coloro che soffrono di celiachia si devono comportare? Di cosa devono fornirsi? Sono anni che noi lavoriamo per informare i ristoratori perché un ristoratore deve essere prima informato attraverso i nostri corsi totalmente gratuiti, questo lo voglio sottolineare, sono gratuiti mentre in altre regioni pagano e questi ristoratori devono partecipare con cuochi, pizzaioli, gelatieri se parliamo di gelaterie noi diamo tutte le informazioni possibili e immaginabili prima sugli alimenti che sono a rischio, gli alimenti sicuri e quelli che sono assolutamente vietati. Quindi i ristoranti, i locali commerciali se non sono a norma e cercano di spacciarsi per positivi e forniti, ben riforniti nei confronti dei celiachi rischiano insomma di danneggiare gravemente queste persone? Diciamo che se un cuoco, un gelatiere, un pizzaiolo non conosce il problema non so da quale pulpito viene che io so fare senza glutine quindi un'informazione ci deve essere. Ma parliamo anche dei rischi di contaminazione una pizzeria che è provvista soltanto di un forno rischia o può comunque creare una pizza che non contamini un celiaco? Beh, allora diciamo, nei corsi che noi facciamo, che accennavo prima noi informiamo appunto le pizzerie che hanno un solo forno il procedimento sicuro cioè preparare l'impasto in un luogo sicuro, lontano da fonti da contaminazioni la pizza viene preparata in una teglia, usa e getta o una teglia dedicata dopodiché per essere infornata nello stesso forno deve essere infornata da sola, sottolineo da sola